caro fratello è da tanto tempo che non ho ricevuto vostre lettere che io non so che pensare spero però che voi stiate bene io di allodato sto benissimo e comincio ad uscire di casa ieri andai alla commedia che erano più di tre mesi che non c'ero stata il re e il signor duca sono andati a un luogo lontano 60 miglia per starvi due o tre settimane sì che io sono qui tutta sola di grazia caro fratello non mi levate la consolazione delle vostre lettere e qualche volta pigliatevi un poco di tempo per scrivere ad una che tanto vi ama e che tanto desidera vostre lettere il signor duca mio ha preso una generosa risoluzione quale è di non andare più alla chiesa dei protestanti con il re come era solito risoluzione molto lodata da chi ha prudenza e conoscenza ma bensì anche da molti biasimata dicendo che gli possa portare un gran pregiudizio tutti dicono la sua ed altro non si parla per tutta la città questo è quanto ho di nuovo da dirvi però finisco restando di vero cuore vostra affezionatissima sorella mari londra lì 4 aprile 1676 il rezolato è stato il seguito dell'altra serie per 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 Grazie a tutti